Spostiamo questo mobile. Ottobre 1938. Ho visto Marco che piangeva. Con le leggi sulla razza non potrà più venire a scuola. Chissà che fine ha fatto. C'è un pezzo di storia tra i ricordi nelle case degli italiani. Materiali e documenti sulla persecuzione e deportazione nazifascista degli ebrei. Cerca tra le storie della tua famiglia. E porta quello che trovi a una prefettura. E contribuirai a costruire i musei della Shoah in Italia e la nostra memoria. Storia di famiglie. Campagna di raccolta materiali e documenti sulla Shoah.